Entro subito in tema, rievocando il clima che dominava a livello internazionale 20 anni fa. Vi ricordate? Questo clima spirituale trovava in qualche modo la sua espressione in una battuta. Si vedeva l'effigia di Karl Marx che diceva proletari di tutti i paesi, perdonatemi. E pur apprezzando molto le battute di spirito, devo dire che questa non mi sembrava che si distinguesse per la sua profondità di giudizio storico e politico. Di che cosa avrebbe dovuto chiedere perdono Marx? Quando nel 1848 pubblica il manifesto del Partito Comunista assieme a Friedrich Engels c'era la schiavitù. C'era la schiavitù ad esempio in quello che poi è diventato il paese guida dell'Occidente negli Stati Uniti. E aggiungeva Marx la schiavitù aperta del nuovo mondo in realtà è un po' la replica della schiavitù velata che esiste in Europa. Faceva riferimento alla condizione della classe operaia. Gli operai non avevano diritto di voto. Erano considerati semplicemente strumenti di lavoro che potevano essere dismessi a seconda delle necessità del capitalista. Le donne stesse non avevano diritto di voto. E per quanto poi riguarda la condizione delle colonie, proprio in quel momento il colonialismo si andava diffondendo, era una condizione che faceva dire a Marx poco tempo dopo il manifesto del Partito Comunista la profonda ipocrisia, l'intrinseca barbarie della civiltà borghese ci stanno dinanzi senza veli non appena dalle grandi metropoli dove esse prendono forme rispettabili volgiamo gli occhi alle colonie dove vanno in giro i gnude. E credo che questa affermazione sia molto importante è contro questo mondo che chiamava a ribellarsi il manifesto del Partito Comunista ed è grande merito di Marx ed Engels aver chiamato a ribellarsi contro questo mondo. E nonostante tutto alcuni risultati sono stati ottenuti. Spesso io parlo delle tre grandi discriminazioni che per secoli hanno caratterizzato il mondo liberale borghese la discriminazione a danno delle donne, la discriminazione a danno dei lavoratori salariati, la discriminazione a danno dei popoli coloniali e dei popoli di origine coloniale. Certamente l'emancipazione non è stata completa ma se i risultati modesti o parziali sono stati conseguiti questo si deve anche al movimento che è partito dal manifesto del Partito Comunista. E il manifesto del Partito Comunista non parlava semplicemente delle condizioni in cui il capitalismo riduceva i lavoratori salariati e i popoli delle colonie. Faceva un'osservazione forse anche più interessante e più inquietante. Diceva che nell'ambito della società capitalistica si annidava già, cito, la guerra industriale di annientamento tra le nazioni. E troviamo qui una prima previsione di quello che poi sarebbe accaduto con la prima guerra mondiale scatenata dall'imperialismo. Engels, che ha avuto la possibilità di vivere più a lungo di Marx, alla fine dell'Ottocento, in effetti bisogna dire, con grande lungimiranza, notava che si stava preparando, cito, una guerra mondiale di un orrore inaudito e di conseguenze assolutamente incalcolabili. Mentre il mondo liberal borghese celebrava la cosiddetta Belle Epoque, la bella epoca, Engels notava quello che si stava addensando. E Engels in una lettera andava ancora oltre e diceva, cito, ci troviamo dinanzi a un pericolo straordinario, siamo minacciati da una guerra nel corso della quale coloro che la odiono e che hanno comuni interessi, i proletari francesi e tedeschi, saranno costretti a massacrarsi reciprocamente. Fine della citazione. E' quello che avviene, come è noto, nel corso della Prima Guerra Mondiale. Ed è contro questo orrore che si sviluppa la rivoluzione d'Ottobre. E quindi si tratta di rivendicare non soltanto il periodo che inizia con Marx e col manifesto del Partito Comunista, ma anche il grande periodo storico che inizia con la rivoluzione d'Ottobre. Voglio fare semplicemente un'osservazione rapida per definire quello che secondo me deve essere l'orientamento, l'orientamento anche storico. Ma insomma, il movimento iniziato già dal manifesto del Partito Comunista e poi dopo rilanciato dalla rivoluzione d'Ottobre ha rappresentato anche la causa della libertà, che abbia rappresentato la causa dell'uguaglianza, che abbia rappresentato la causa della lotta contro le grandi discriminazioni, non c'è dubbio, ma ha rappresentato anche la causa della libertà. A questo proposito io voglio riferire quello che si verifica agli inizi degli anni 30 del 1800. Procedo rapidamente. Noi abbiamo due grandi intellettuali che visitano separatamente gli Stati Uniti. Per un verso è Tocqueville, il grande teorico liberale borghese, e per un altro verso è un altro autore francese, meno noto ma di grande importanza, si chiama Schelker, ha avuto il merito poi nel 1848 di abolire la schiavitù nelle colonie francesi. Ecco, questi due grandi intellettuali, nessuno dei due è influenzato dal marxismo, che non c'è ancora, visitano gli Stati Uniti. E Tocqueville, pur constatando con onestà intellettuale la schiavitù dei neri, l'orribile condizione dei neri, l'agnentamento dei pelle rossa, conclude parlando della democrazia in America. Cioè, tiene conto semplicemente, in ultima analisi, in questo giudizio, della condizione della comunità bianca. Contemporaneamente, ma separatamente, questo altro grande intellettuale francese, Schelker, visita gli Stati Uniti, e a partire dalla sorte orribile, inflitta agli schiavi neri, e ai pelle rossa, parla degli Stati Uniti come un dispotismo feroce. Chi dei due aveva ragione? Non voglio soffermarmi su questo punto, ma parliamo della storia del Novecento. Certo, se noi ci concentriamo semplicemente su quello che avviene nella metropoli, non c'è dubbio che il mondo nuovo che stava emergendo a partire dalla rivoluzione d'ottobre si presenta molto più tormentato, più difficile. Il governo della legge non esiste, fa fatica a realizzarsi. E però, per un altro verso, è proprio il movimento iniziato con la rivoluzione d'ottobre che ha rivendicato la liberazione dei popoli coloniali, che ha messo in moto questo gigantesco processo di emancipazione, mentre dall'altra parte, coloro che avrebbero dovuto, in teoria, rappresentare la causa della libertà, in realtà non hanno fatto altro che massacrare i popoli. in Vietnam, in Algeria, nelle colonie, massacrare in massa i comunisti in Indonesia, stabilire feroci dittature militari in America Latina. Io credo che da Marx venga anche questa indicazione a guardare la totalità, a non soffermare lo sguardo semplicemente su una minoranza privilegiata, ristretta, ma a guardare la totalità. E allora, da questo punto di vista, dobbiamo dire che è stato un grande capitolo della storia della libertà. Non soltanto la vicenda che inizia con la pubblicazione del manifesto del Partito Comunista, ma anche, a maggior ragione, la vicenda che inizia con la rivoluzione d'ottobre e con lo sviluppo del movimento comunista a livello internazionale. Ecco, e a partire da questa consapevolezza che io mi sento di impegnarmi nella nostra associazione e nell'associazione che andiamo costituendo, ritornando alla battuta iniziale di cui parlavo, oggi dobbiamo dire che persino all'interno della borghesia il clima spirituale è cambiato. Oggi, dinanzi alla crisi, la stessa borghesia sembra quasi sussurrare Dio mio perché mi hai abbandonato, perlomeno sul piano intellettuale, e in realtà è costretta a dire che se si vuole capire qualcosa della crisi bisogna far riferimento a Marx, così come se si vuole capire qualcosa dei rapporti internazionali, della persistenza dell'imperialismo, bisogna far riferimento a Lenin e alla categoria di imperialismo. Giungo alla conclusione, l'ultimo punto, ma negli Stati Uniti quando parliamo di imperialismo non è giunto al potere un presidente di colore? E noi, naturalmente, credo come marxisti, come comunisti dobbiamo essere felici di questo. Voglio spiegare però rapidissimamente come si è giunti a questo. Io ricordo, l'ho ricordato più volte anche nei miei libri, quello che avviene nel 1952. Si è crollato il Terzo Reich, ma negli Stati Uniti c'era ancora lo Stato razziale. I neri continuavano ad essere oggetto di discriminazione, di discriminazione nelle scuole, nei trasporti pubblici, nei locali pubblici. È un momento in cui sta iniziando la lotta di emancipazione dei neri anche perché questa lotta di emancipazione degli afroamericani si ispira al gigantesco movimento di emancipazione dei popoli coloniali che si sta sviluppando nel Terzo Mondo sull'onda anche del movimento comunista. Ed ecco, si deve decidere se la segregazione nelle scuole americane è costituzionale oppure no. la Corte Suprema, la Corte Costituzionale statunitense è chiamata a decidere se deve dichiarare illegale e anticostituzionale la segregazione. Ha esitazioni? Ma ecco che dal Dipartimento di Stato giunge alla Corte Suprema americana una lettera in cui si dice guardate, se continuate a mantenere in piedi la segregazione razziale finirete col dare ulteriore impulso al movimento comunista e al movimento di liberazione dei popoli coloniali che già sta divampando cioè senza la sfida rappresentata dal movimento comunista e dal movimento di liberazione nazionale ispirato dai comunisti non sarebbe stata cancellata la discriminazione razziale che esisteva negli Stati Uniti. Potremmo dire paradossalmente ma in modo serio Obama non lo sa ma se è diventato Presidente degli Stati Uniti lo deve anche a grandi rivoluzionari come Fidel Castro Ocimin Lumumba coloro che mettendo in moto un gigantesco processo di emancipazione dei popoli coloniali hanno reso difficile e problematica anche la discriminazione a danno degli afroamericani. Questo è il primo punto e l'ultimo punto concluto ma non per questo bisogna farsi illusione perché a proposito dell'attuale Presidente degli Stati Uniti leggevo sull'International Herald Tribune di due o tre giorni fa una notizia che forse vale la pena di riferire. con questi aerei non pilotati i drones che provocano un'infinità di vittime tra i civili e che comunque esprimono il potere imperiale e la presunzione imperiale di imporre la morte in modo sovrano in un anno in meno di un anno della sua presidenza cito l'International Herald Tribune Obama ha fatto ricorso ai drone a questi aerei non pilotati più di Bush negli otto anni della sua presidenza è un dato che voglio riferire a conferma del fatto che anche la categoria di imperialismo è disgraziatamente ancora attuale ed è con questo spirito che io assieme a voi voglio mettermi a lavorare posso concludere buon lavoro per tutti grazie 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 a tutti